Musica Libera molto curata anche per l'equipaggio che arriva in questo momento sulla pedana, il numero 95 Promato da Tarantini e Revoldi che alla Magra le fanno Cristian e Flavio Promotor è la scuderia e il team invece, qual è il team della vettura? SMD SMD Siamo qua per provare la macchina, la prima volta che la uso, le prove sono bellissime Non l'hai mai fatta? Non hai mai corso in Valtellina? No, sempre sono spettatore, io arrivo dopo Bene, va bene, intanto lei è assaggiata, lei è guardata insomma Bene, in bocca al lupo ragazzi, buon divertimento con questa avveno Clio Tarantini Revoldi Ricordiamo il programma perché se l'albosaggio è già cominciata L'ammello comincerà alle 17.25 Quindi tra non molto, per la verità, tra 12 minuti Mentre i concorrenti poi andranno a effettuare il riordino Mentre i concorrenti poi andranno a effettuare il riordino Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.